Lei è regina, ma tutti la chiamano... Froyley! Froyley! Buongiorno, Froyley! Faccia poco lo spiritoso che oggi non è aria! Lui è Walter. Turista fai da te. Adesso chi è? Pardon! Sa leggere? Chiuso. Ancora? Da mesi progettavo questa vacanza! Ho detto di no! Grazie per le chiavi! Dove le ha prese quelle? Alla reception! Un incubo! Questo è per lei. A me piacciono i regali. Una tempesta solare cambierà per sempre la loro vita. Bella giornata, eh? Buongiorno! Qualcosa non va? Niente. Deve essere qualcosa di serio allora. Mi è successo qualcosa? No, no. Le radiazioni solari provocano spazi d'umore e pesante nevralgia. Un fatto scientifico. Ho fatto le pazzie per te, ricordi che notti di follia ha di Troy. Spaghetti, pollo e salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito... Troiland, una fiaba d'inverno. Dal 26 maggio al cinema. Buong! Buong!